La professione pensa dell'idea lanciata ieri da Salvini, del 20% agli studenti stranieri nelle scuole. Guardate, io non l'ho capita questa idea, credo che Salvini, se davvero è questa la sua idea, di espellere dalle scuole i bambini e le bambine straniere, non conosca il paese reale. Perché noi abbiamo tanti bambini e bambine, studenti, che hanno nomi italiani, sono figli di stranieri, non hanno la cittadinanza italiana perché la legge prevede una permanenza di un certo periodo, ma sono nati in Italia, non hanno altro paese dove andare, perché sono nati in Italia, hanno nomi italiani, non hanno altri paesi dove andare, li espelliamo dalle scuole e dove li mandiamo? Tutti a casa di Salvini.